Ed eccoci con Artur che parla ancora molto bene italiano, dice di avere nostalgia anche oltre che di Roma anche di un bel piatto di amatriciano e una carbonara, probabilmente ti consolerebbe per un pizzico di delusione per l'uscita di questa sera in questo modo dalla Champions League. Certo perché abbiamo dimostrato in tutte le due partite, tanto a Lisbona quanto qui, che siamo una squadra che meritava un po' di più andare alla semifinale, non abbiamo avuto una fortuna sulla prima partita, un rigore netto, l'Italia-Vento non ha fischiato e oggi qui con sette fallo sono state quattro gialli per una espulsione dove secondo me ha pregiudicato un po' la nostra squadra, ma abbiamo dimostrato in dieci che abbiamo una grossa qualità e meritavamo un po' di più. Sì, grande carattere anche perché finora il Benfica che viene dai preliminari, bisogna ricordarlo, sempre segnato in trasferta, a questo punto la vostra stagione viene focalizzata tutta sul campionato, su questo scontro al vertice con i vostri rivali? Certo, il nostro oggettivo sicuramente è il campionato, lunedì abbiamo una partita difficilima contro il nostro rivale che è il Sporting a casa loro, dove dobbiamo puntare tutto lì, perché una vittoria sicuramente facciamo un passo importante per vincere il Scudetto. Adesso dobbiamo solo pensare a riposare, stiamo avendo una serie di partite ogni due o tre giorni, stiamo giocando dove è difficile a livello fisico. L'ultima cosa, ci viene in mente sul rigore di Lampard quasi c'eri, avevi studiato? Sì, sì, la cosa più difficile è che un attimino che dobbiamo aspettare per non partire un po' prima, con un giocatore di questa qualità, se tu parti un po' prima lo cambiano a un decimo di secondo lì. Lui ha avuto la fortuna, ha tirato fortissimo, ha mancato un po' la fortuna pure perché è passata da un millimetro, poi la partita è un peccato non vincere oggi qui. Ti trovi bene in Portogallo o torneresti in Italia? Benfica per sé? No, io sto molto bene lì a Lisbona, tanto con questa società, tanto con questa squadra. Oggi abbiamo dimostrato avere un grande pubblico che sono riusciti a mantenere, credendo fino alla fine, se non mi meritavano un po' di più. Nella semifinale fare due partite con il Barcellona sarebbe una cosa stupenda per loro e anche per noi, e discutere una finale. Però secondo me stiamo dentro la strada giusta, dobbiamo cercare di vincere i campionati e nel prossimo anno a Champions potremo fare anche di più.